Quindi stavamo dicendo, relativamente al ciclo di coli, alla glicolisi, che la produzione di due ATP per volta con una frequenza più elevata rispetto alla respirazione cellulare aerobia, ma con la produzione di una molecola che è l'acido lattico, che a concentrazioni relativamente elevate risulta essere particolarmente tossica per il muscolo. L'acido lattico, tramite il torrente circolatorio, il circolo sanguigno, viene traslocato al fegato, dove viene trasformato in piruvato e poi in glucosio. Ovviamente in condizioni di sforzo minimale questo ciclo non dà problemi all'individuo. In condizioni di sforzo invece più intenso ci può essere un accumulo di acido lattico nel muscolo, quindi un muscolo che si affatica e addirittura che va in contrazione, che può subire dei crampi che servono per impedire le ulteriori contrazioni, l'ulteriore accumulo di acido lattico che potrebbe risultare fatale per le cellule muscolari. Quindi il crampo da sforzo serve proprio per metterci forzatamente a riposo e fare in modo che il lattato o l'acido lattico possa essere smaltito relativamente in fretta. Lo smaltimento avviene ad esempio in maniera passiva con un massaggio, cioè tenendo il muscolo perfettamente a riposo e massaggiandolo, facendolo massaggiare o usando tra virgolette i massaggiatori elettrici, insomma gli strumenti che fanno contrarre il muscolo dando scosse elettriche si favorisce la velocità insomma di smaltimento. Oppure si può effettuare un blando allenamento, quindi una camminata più o meno veloce in modo da non produrre, da non affaticare ulteriormente il muscolo, ma da favorire una veloce circolazione nei tessuti coinvolti e quindi un'esportazione rapida del lattato e un defaticamento muscolare. Quindi l'allenamento potrebbe, dovrebbe essere seguito da un defaticamento finale e il giorno dopo un allenamento molto molto intenso è necessario un riposo non assoluto ma un riposo in cui il muscolo viene mosso in maniera relativamente blanda. Dicevo la fermentazione permette di avere altri 30-60 secondi di energia e quindi la riserva, un'emergenza che può essere utile, 30-60 secondi se dovessi pensare a un discorso evolutivo mi permettono di scappare, salire su un albero, entrare nella grotta o quello che è. Un muscolo particolare, il muscolo cardiaco abbiamo visto, è un muscolo striato, però non è formato da sincizi, ma è formato da singole cellule che possono avere un paio di nuclei al massimo in genere. Ovviamente il cuore ha una necessità di contrazione continua, quindi non si può interrompere appena il decesso e ha una necessità di contrazione assolutamente precisa, quindi un muscolo liscio non avrebbe avuto la precisione necessaria perché i muscoli lisci sono relativamente grossolani, non si stancano, via del tutto eccezionale, ma non hanno un controllo così approfondito della loro contrazione, della direzionalità della contrazione. Quindi è stato scelto lo striato per la raffinatezza della contrazione, non con i sincizi multinucleati perché ovviamente avrebbe tolto precisione. Qui abbiamo la possibilità di far contrare una singola cellula alla volta. I meccanismi di contrazione sono molto simili a quelli del muscolo striato o scheletrico. Ritornano fuori le giunzioni. Qui ci sono delle giunzioni particolari che servono sia a tenere unite le cellule, quindi a legarle fortemente le une all'altra, ma soprattutto servono a permettere la diffusione del segnale. Quindi la cellula muscolare, oltre che contrarsi, trasferisce lo stimolo alla cellula successiva. E vedremo, ci sono dei meccanismi di sicurezza che impediscono che questo stimolo possa ritornare indietro con una sorta di movimento a ping pong, perché altrimenti saremmo in una situazione particolare, cioè la fibrillazione è quindi spesso e volentieri incompatibile con la vita. Queste giunzioni sono i dischi intercalari, che vedremo in una successiva diapositiva. Ovviamente, come vi dicevo prima, il cuore si deve contrarre 24 ore al giorno per, si spera, numerosissimi decenni, quindi ha bisogno di energia. Quindi ci sono moltissimi mitocondri, sono particolarmente grandi, esistono i granuli di glicogeno, gocci lipidiche, come anche nel muscolo striato scheletrico, e poi sono presenti questi dischi intercalari che uniscono le cellule fra di loro, lasciando uno spazio molto piccolo, 15-20 nanometri massimo. Qui vedete, sempre immagine al microscopio, e qui vedete un po' meglio i dischi intercalari, in viola più scuro, rispetto alla colorazione delle altre cellule muscolari, che vedete sono relativamente piccole, e ognuna è collegata alla successiva, mediante il disco intercalare. Qui si vedono, ovviamente, abbastanza peggio. Allora, eravamo arrivati ai dischi intercalari, scusatemi, ecco. Allora, nei dischi intercalari troviamo due giunzioni cellulari, due tipi di giunzioni che abbiamo già studiato. Ad esempio, ci sono i desmosomi, che ricorderete servono a unire strettamente, fortemente, cellula a cellula, che si trovano nei decorsi trasversali, trasversalmente alle due cellule, quindi ne vediamo qua, e ne vediamo qua. E poi ci sono le giunzioni gap, che ricorderete sono giunzioni che servono a favorire la comunicazione, in questo caso una comunicazione elettrica, quindi un passaggio di cariche, di ioni, e permettono il passaggio del segnale da una cellula alla successiva, quindi dando una sequenza di eventi estremamente rigorosa, estremamente precisa. Ecco, vedete qua le giunzioni desmosomi, le giunzioni gap trasversali, in un'immagine sempre in microscopia elettronica a trasmissione. Il muscolo liscio lo tratteremo relativamente poco, è un muscolo che non presenta la bandeggiatura, ci sono actine miosina, che slittano le une relativamente alle altre, ma non in maniera così ordinata. La mancanza di ordine, quindi prevede una contrazione non così raffinata, ma al contrario la cellula liscia, il muscolo liscio, ha una resistenza relativamente illimitata, quindi non si stanca praticamente mai. Non viene utilizzata quindi per movimenti estremamente precisi e rigorosi, ma per movimenti diciamo relativamente grossolani. Ovviamente grossolano è un tema che si adegua poco, movimenti adatti, insomma. Ad esempio nello stomaco, la contrazione dello stomaco deve essere potente, continua, per tempi anche lunghi, ma la precisione non è certo quella del battito cardiaco, la peristalsi intestinale, stessa identica cosa, qui è importante moltissimo la direzionalità della contrazione, quindi c'è una precisione relativamente alla direzione, ovviamente la progressione del materiale digerito verso l'esterno. La morfologia, vedete, si vedono fibre più o meno affusolate, quindi senza assolutamente bandeggio, i nuclei sono relativamente grandi, ci sono, come dicevo, actina e miosina, più altri filamenti, ma io direi non andiamo oltre, quindi ricordatevi soprattutto che c'è meno ordine e molta più resistenza nel tempo. Con questo direi che la lezione, le lezioni, il ciclo di lezioni sul tessuto muscolare lo consideriamo terminato. Spero di essere stato chiaro in tutte le lezioni presentate e che possiate approfittarne al meglio per comprendere gli argomenti relativi. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.